La dieta mediterranea è il modo migliore per vivere bene a lungo e riscoprire il piacere della nostra tavola. Questo è il messaggio che l'Associazione Cuochi della provincia di Fermo vuole lanciare con il seminario dal titolo Se stai ingrassando mangia meglio onore e riconoscenza alla dieta mediterranea organizzato al ristorante Baladì di Torre San Patrizio, relatore del convegno Massimo Petrelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università di Ancona. Al dibattito ha partecipato il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, a capo dell'ente camerale Fermano che ha anche sostenuto l'iniziativa. Aiutando i nostri cuochi, l'Associazione Cuochi sicuramente si migliora le cose che loro sanno già bene preparare ma soprattutto si crea anche la giusta mentalità nei ristoratori, in tutti quegli operatori economici che evidentemente sono un po' il fulcro per il nostro turismo, un punto di riferimento importante, noi sappiamo che una parte significativa, la metà dei turisti ritornano dove sono stati se sono stati serviti bene e questo mi pare già un elemento sufficiente ma il dibattito invece ci ha fatto riflettere cosa fa bene e cosa invece fa male, quindi anche un'educazione alimentare intesa anche a tutelare la nostra salute, a migliorare la nostra qualità di vita, io credo che sia un fatto e un aspetto fondamentale e la Camera di Commercio sicuramente non poteva non essere vicina a questi nostri operatori, penso che quando noi parliamo di formazione spesso in questo territorio ci rivolgiamo un po' a quei settori che maggiormente conosciamo e magari perdiamo di vista questo, a me ha fatto piacere anche segnalare che quello di educare intanto a una preparazione dell'alimento anche al servizio dell'alimento ma all'uso che poi ne andiamo a fare e agli effetti che hanno su di noi potrebbe essere un'idea anche da trasferire all'interno delle scuole, oggi per esempio questo aspetto non avviene più, prima era nella famiglia dove gli anziani abbiamo sentito Pazzaglia con una frase di sintesi del proprio nonno indicava come ci si doveva alimentare, oggi non esiste più, oggi abbiamo gli spot televisivi e invece io credo che dovremmo recuperare questa cultura del valore dell'alimento, fare in modo che i ragazzi anche fin dall'età scolastica abbiano una presa coscienza sugli effetti che produce nel loro fisico e perché no anche concepire l'idea che prepararsi un alimento da soli, mangiare da soli o mangiare al ristorante in compagnia di amici, è un momento di socializzazione particolarmente importante, in fondo una mamma che prepara un buon pasto per il proprio figlio, indubbiamente ha la soddisfazione quando viene consumato e vede che c'è l'apprezzamento ma è anche un gesto di affetto che attraverso questa gestualità trasferisce. Io credo che noi dobbiamo riscoprire veramente quelle piccole gioie dell'amicizia, dello stare insieme, del mangiare insieme, del consumare un po' che potrebbe essere importante, questa è una strada che ha come vediamo tanti significati quindi favorire, migliorare il nostro territorio, favorire il turismo, favorire la ristorazione ma anche dare un messaggio a livello sociale che secondo me è anche questo importante. Si è partiti con un dato shock, nelle Marche quasi la metà degli abitanti, il 40% 49% in sovrappeso, un trend che va cambiato soprattutto perché i nutrizionisti di tutto il mondo sono concordi nel dire che la cucina mediterranea è fonte di benessere. La dieta mediterranea era quella che facevano i nostri nonni in questa zona o anche nelle zone del sud Italia. È una dieta particolarmente sana perché trae i nutrienti da alimenti particolarmente sani, per esempio l'olio extravergine di oliva, il pesce del nostro mare, i legumi e i cereali delle nostre colline. Tutte cose che appunto anche la comunità scientifica internazionale ha conosciuto, quindi non è come qualcuno dice una battaglia campanilistica, noi italiani contro il resto del mondo. Anzi, il termine dieta mediterranea è stato coniato da un medico americano e sono proprio gli americani e tutta la comunità scientifica anglosassone che ha portato avanti i principali studi e hanno dimostrato questi benefici. Stasera qui al Baladi è stato organizzato questo evento dal titolo Se sta ingrassando, mangia meglio. Ecco, partiamo proprio da questo. Di solito non è il contrario? Più si mangia, più si mangia meglio e più si ingrassa? Io direi che tre sono i presupposti fondamentali. Spesso confondiamo che l'unica colpevole è la quantità. Secondo noi non è così, ma anche secondo la storia e secondo anche grandi esperti. Una corretta alimentazione deve passare attraverso tempi, modi e quantità. Ma prima ci sono altri due stadi fondamentali. Quello della quantità spesso, voglio dire, viene sopravvalutato, ma non è l'unico colpevole. Che cosa possiamo dire di questa associazione dei cuochi fermani? Sì, noi siamo sempre molto attenti a tutte le evoluzioni e abbiamo raggiunto, direi, un buon stadio sia a livello numerico, ma soprattutto a livello qualitativo. Facendo che cosa? Sto facendo degli investimenti su dei grandi della cucina italiana e non solo. Li abbiamo portati su questo territorio, hanno fatto dei corsi di formazione e c'è, voglio dire, un grande risultato e questo si vede nell'impatto giornaliero con le attività ristorative. Possiamo dire che questo è un incontro importante, questo però è una valorizzazione anche dei prodotti della nostra terra. Sandro Pazzai ha sposato in pieno quello che la Coldiretti predica da tempo, la filiera corta, la tracciabilità, il mad in Italy, la trasparenza dei prodotti e questo è quello che predichiamo noi come Coldiretti che lo stiamo dimostrando in tutta Italia. Direi che queste cose sono molto importanti perché appunto si fa cultura e prima di tutto, la prima cosa nel mangiare è cultura appunto perché come si è detto anche nel convegno di questa sera si mangia male, purtroppo si mangia male.